Buongiorno a tutti, io oggi vi parlo della laurea magistrale in scienze statistiche dell'Università di Padova. Prima di tutto voglio dire, ma che cos'è statistica? Allora, per questo mi prendo in prestito una simpaticissima introduzione di questo libro, che è un libro divulgativo di biostatistica di Steven Sen, in cui nell'introduzione comincia a dire quello che nell'immaginario collettivo è la statistica, una disciplina noiosa, malfamata, banale, meretrice della scienza, scienza di terzo grado, proprio una cosa che è quello che la stragrande maggioranza della gente pensa in realtà, anche tanti studenti della triennale in statistica. E poche righe dopo la statistica è una disciplina meravigliosa che comprende matematica, filosofia, analisi e empirismo, richiede un pensiero limpido e buona capacità di giudizio e intuito. Possiamo scegliere, è l'una o è l'altra, ovvio che se volete fare la magistrale in statistica dovete scegliere questa, chiaro. Ma e perché studiare statistica? Poi andremo in dettaglio ovviamente, ma perché studiare statistica? Beh, l'idea fondamentale è questa, diceva Eric Schmidt che era il CEO di Google, noi creiamo tanta informazione in due giorni quanta ne è stata creata dall'inizio dell'umanità fino al 2003. Infatti questo grafico mostra banalmente come la informazione che si sta creando e si sta salvando nei nostri database, nei nostri centri di raccolta dati è cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni e cresce sempre più velocemente. Quindi abbiamo tantissima informazione, un sacco di dati, è facilissimo raccogliere informazioni e immagazzinare dati, però bisogna anche analizzarli, interpretarli, riuscire a tirar fuori conoscenza da questi dati. Ed è una cosa difficile. Ecco, la statistica è la risposta a questa necessità di analizzare questi dati, di interpretarli, di trasformarli in conoscenza. E questa scienza, questa idea, che è proprio della statistica, è proprio una scienza dei dati, no? Allora, dice Brian Efron che è uno statistico, uno dei più grandi statistici a cavallo di questi secoli, di questi anni, dice chi ignora le cose di statistica, gli strumenti statistici, è condannato a reinventarli. Ed è quello che succede spesso. Questo è un altro collega, sempre dell'Università di Stanford, Jerry Friedman, e ogni volta che i dati, la quantità di dati aumenta di un fattore di 10, noi dobbiamo completamente ripensare a come analizzarli. Completamente ripensare gli strumenti quantitativi per analizzare questi dati. E Billy Cleveland, che è anche lui uno statistico, che è il primo che ha tirato fuori il nome di data science, ci diceva che cos'è data science se non la capacità di capire quanto i dati ci sanno dire. La capacità del data scientist è proprio quella di rendere l'analista capace di tirar fuori informazioni dei dati, imparare dai dati. Ed è quello che dice anche la data science association di fatto, no? Perché data scientist significa il professionista che usa metodi scientifici, la statistica, per liberare e creare significato dai dati. Quindi statistica è scienza dei dati, è tirar fuori informazioni, tirar fuori cose importanti. E perché fare statistica? Beh, naturalmente in questi anni ci sono sempre classifiche per dire quali sono i lavori più migliori, i lavori che danno più stipendio, che danno maggior soddisfazione, eccetera. Ad esempio questa è una classifica americana, i migliori lavori del 2016, il primo posto il data scientist, stipendio di 130 mila euro circa, eccetera. Secondo posto lo statistico, quindi vedete sono due che fondamentalmente sono la stessa cosa, no? Ma un'altra classifica, questo è fast company, tra i primi 25 è il primo data scientist ancora, ma anche in Italia la cosa è così. Guardate il Sole 24 ore nel 2015, fine 2015 scrive data science e statistica le discipline più sexy danno lavoro a nove laureati su dieci. Questo su base italiana, in realtà i laureati a Padova molto di più. Che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire che quello che diceva Alvarian, cioè che lo statistico è il lavoro più sexy dei prossimi dieci anni e che per i laureati di oggi c'è solo una parola statistica, come diceva il New York Times qualche anno fa. E cosa vuol dire e perché Fortune si permette di dire che se anche gli stipendi dei laureati in statistica sono più o meno quelli di tutte le altre grandi e importanti professioni, il laureato magistrale in statistica ha minor stress, ha maggior soddisfazione nel suo lavoro. Perché questo? Eh beh, questa è un'altra statistica della metà degli anni del XX secolo, senza i dati tu sei un'altra persona con una opinione e basta. Noi stiamo affogando nell'informazione siamo affamati di conoscenza. Questo è un giornalista scientifico degli anni 70. Ma anche Albert Einstein diceva che l'informazione non è conoscenza. Quindi statistica cosa vuol dire? Vuol dire tirar fuori conoscenza dai dati, dall'informazione. E perché fare una magistrale? Beh, l'idea di fare una magistrale, certo alla triennale noi impariamo tanti metodi, tanti strumenti, no? Per analizzare dati. Ma la magistrale che cosa ci dà? Leonardo da Vinci diceva, quelli che si innamorano di pratica senza scienza sono come il nocchiere che entra in naviglio senza timore e bussola, che mai ha certezza dove si vada. Ecco, la magistrale vuole darti il timone e la bussola per andare nella rotta dove vuoi andare, no? Perché se no, se facciamo solo pratica, impariamo solo le cose pratiche, dopo ci manca una direzione, ci manca un porto dove arrivare. E lo stesso, questo Bernardo Colombo, che è il fondatore della facoltà di statistica qua a Padova, diceva una sua frase, il numero non è la statistica tanto quanto il marmo non è la scultura. Abbiamo bisogno di qualcosa in più, c'è bisogno dell'artista per fare la scultura. Ecco, la magistrale vuole dare proprio questi fondamenti fondamenti teorici, fondamenti di strumentazione intellettuale che ci permettono di andare verso, non solamente a fare pratica, ma andare verso la conoscenza dei fenomeni che noi andiamo a conoscere. E anche Galileo infatti ci diceva nel Saggiatore che il mondo è scritto in una lingua matematica i cui caratteri sono triangoli, cerchi e altre figure geometriche. Al giorno d'oggi, oltre ai triangoli, cerchi e alle figure geometriche, c'è un sacco di altra matematica dentro il mondo e lo statistico cerca proprio di, con il linguaggio della matematica, di capire qual è, com'è costruito il mondo d'oggi e cercare di interpretarlo e poi prendere delle decisioni. E perché farlo a Padova? Beh, farlo a Padova perché il Dipartimento di Padova ha una tradizione di eccellenza, proprio nella didattica, da sempre mette insieme matematica, statistica e informatica. I matematici insegnano la matematica, gli statistici la statistica, gli informatici l'informatica e i docenti del Dipartimento e dei corsi di laurea sono sostanzialmente quasi tutti ricercatori importanti di fama internazionale oppure sono dei professionisti presi dal mondo del lavoro, gente formata. Tant'è vero che nella valutazione della qualità della ricerca dell'Agenzia del Ministero, il Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Padova è il primo tra i Dipartimenti di Statistica in Italia, è quello che ha punteggi più alti, ma non solo in questa classifica ma in molte altre classifiche. Di fatto, studiare Statistica a Padova probabilmente in Italia è il posto dove la formazione è più completa e più sensata. E per chi è la magistrale? Ecco, quali sono le caratteristiche di uno studente che vuole andare alla magistrale? Deve essere laureato solamente in Statistica alla triennale oppure deve avere delle competenze quantitative fortissime? Beh, sì, non deve essere laureato in Statistica ma deve avere dei requisiti curriculari di qualche tipo. Ad esempio, deve avere un voto di laurea triennale non inferiore a 85 centodecimi, cioè un minimo di competenze, di capacità deve averle dimostrate già nella triennale. E poi ci vogliono almeno 26 CFU, che sono tre esami, non di più, in qualche materia di tipo matematico, matematico, statistico o simili. Non sono tanti, tre esami, tre, quattro esami non sono tanti, però danno l'idea che hai delle competenze di base. Infine, ci sono delle preparazioni invece personali per cui è richiesta aver superato esami come analisi matematica, per cui chi non ha passato questo esame, sostenuto questo esame nella laurea triennale, lo può sostenere come test d'ingresso della nostra laurea magistrale e poi ci vuole un esame di modelli statistici avanzati che se uno non lo ha sostenuto durante la triennale può sostenerlo nel primo anno della magistrale come esame a scelta. Quindi, insomma, ci sono delle richieste per poter entrare che non sono però mostruose. Una laurea che cerca di tirar fuori informazione dei dati accoglie esperti che hanno avuto una triennale e si sono diventati esperti di materie diverse, appunto, sociologia, psicologia, ingegneria. Qual è la struttura di questa magistrale? Bene, 120 crediti, come tutte le magistrali, sono circa 11-12 esami più una tesi di laurea. 5 esami sono obbligatori per tutti, poi abbiamo 3 esami di materie statistiche che completano la formazione di carattere, appunto, data analisi, data science e poi 2-3 esami che invece sono di materie non statistiche, di materie che servono per le applicazioni. Infine c'è un esame a scelta libera e la tesi, che è una parte importante ovviamente, come sempre nelle lauree magistrali, la tesi è dove lo studente si mette in gioco, fa vedere a se stesso prima di tutti e poi al mondo che è in grado di fare un progetto dall'inizio alla fine. Quali sono gli esami obbligatori per tutti? Bene, abbiamo un esame di matematica, di base, calcolo delle probabilità, e un esame di teoria della statistica. Questi sono sostanzialmente gli unici due esami teorici che abbiamo obbligatori per tutti. Poi abbiamo tre esami, un esame di data science, data mining, un esame e due esami di modelli statistici per le applicazioni sociali o economiche, che sono tre esami di modellazione statistica applicata, quindi di statistica applicata. Questo è un nucleo di base che è valido per tutti e che è obbligatorio. Naturalmente all'interno degli esami applicativi la componente informatica è cruciale. Un terzo delle lezioni sono in aula informatica utilizzando software e pacchetti differenti per le diversi tipi di analisi. Oltre a questi tre esami per tutti, cinque esami obbligatori per tutti, abbiamo tre esami che lo studente può scegliere in un paniere che noi chiamiamo major, richiamando una terminologia anglosassone, per dire il nucleo più importante del tuo studio, cioè quello statistico. E quindi abbiamo tutta una serie di esami che possono essere scelti, di questi se ne scelgono tre, di materie, di analisi di dati, statistica applicata, statistica teorica, data science, eccetera. E dopo, cosa facciamo degli altri due esami che avanzano? Bene, John Tukey, un grande statistico degli anni 50, che è quello per dire che ha inventato la parola bit, no, per i nostri computer, la cosa migliore di essere uno statistico è che ti viene concesso di giocare nel giardino di chiunque altro. Ecco, lo statistico gioca nel giardino di tutti e la statistica è quindi una scienza ancillare, a servizio delle altre scienze. E quindi è fondamentale, la statistica da per sé è fondamentale in tutti i campi del sapere, l'analisi dei dati è fondamentale ovviamente in tutti i campi del sapere, ma a questo punto per essere uno statistico è importante avere delle competenze anche su qualcuno di questi campi del sapere. Per questo due degli esami della nostra magistrale sono volti alla preparazione in uno dei campi del sapere che lo studente vuole e può scegliere. E quindi abbiamo un paniere molto ampio di esami che noi abbiamo chiamato minor, non perché sono meno importanti ma perché sono la seconda materia, diciamo, della laurea, sempre con una terminologia anglosassone e abbiamo appunto da scegliere se vogliamo fare applicazioni di carattere di marketing oppure di finanza oppure di biologia o di fisica o di astronomia, eccetera. Abbiamo la possibilità di scegliere tra tutti questi oppure qualsiasi altro esame dell'Università di Padova che abbia un livello ovviamente è un contenuto adeguato. Naturalmente come consiglio di corso di studi proponiamo alcuni percorsi, alcuni giardini dentro cui giocare, alcuni percorsi per i quali se seguite questi percorsi noi garantiamo che la vostra preparazione è di alto profilo e siete in grado di essere degli esperti in quelle materie. Ad esempio c'è un indirizzo di analisi di dati per l'azienda, un indirizzo per statistica nella finanza, biostatistica, statistica per la tecnologia e il data science e un indirizzo di popolazione e società. Poi ci sono altre possibilità di scelta in cui chiediamo dei suggerimenti per fare dei percorsi specifici su temi che vanno di moda come il data science computazionale oppure temi di statistiche ufficiali per andare a lavorare all'euro, statalistat, all'oxe oppure temi di teoria della statistica anche in vista di potenziali dottorali. Adesso vediamo qualche esempio velocemente di che cosa vuol dire ciascuno di questi percorsi. Data science per l'azienda. Chiaramente le aziende di oggi hanno un sacco di informazioni sui loro clienti che possono raccogliere e che vogliono analizzare, vogliono sfruttare per avere un aumento dei ricavi ovviamente a fronte di una riduzione dei costi e quindi la conoscenza dei clienti fa sì che si cerchi di trattare ciascun cliente in maniera diversa e si cerchi di avere clienti più soddisfatti, quindi più fedeli e quindi che portano maggiori entrate. Ad esempio una delle cose tipiche è quella di misurare, tipiche della statistica in azienda, è proprio quella di misurare la soddisfazione dei clienti. È chiaro che la soddisfazione non è un qualcosa che si può toccare, osservare, è una variabile di tipo latente, di tipo non osservabile e che sta in mezzo tra il livello desiderato, il livello atteso e il livello percepito. In mezzo ci sta questa misura che è la soddisfazione che noi in qualche modo impariamo a misurare. Oppure altra cosa tipica è quella di segmentare la clientela di un'azienda, cioè io cerco di capire come sono diversi i miei clienti per poter aggredirli oppure per poterli trattare in maniera diversa a seconda se sono delle caratteristiche oppure altre. Allora esistono una serie di strumenti per poter cercare di classificare i clienti e segmentare appunto la clientela cercando di trovare i profili di ciascuno. Tutto questo ovviamente richiede delle competenze di carattere statistico-matematico che vengono apprese durante la nostra laurea magistrale. Statistica per la finanza, classico esempio, i rendimenti giornalieri di un'azienda o di più aziende rispetto all'indice di borsa Standard & Poor's, in questo caso nel grafico che vi ho messo qui. Naturalmente ci sono un sacco di problemi per ottimizzare il portafoglio oppure combinare in maniera ottimale il rischio e il rendimento atteso, come misurare il rendimento eccetera. Quindi come selezionare i titoli per avere un portafoglio ottimo. Tutte cose che richiedono delle competenze quantitative e anche di finanza che permettono poi di essere esperti proprio in quell'ambito. In biostatistica ci sono mille tematiche, una di queste è quella che va adesso di moda in questi ultimi anni moltissimo, ci sono un sacco di soldi che vanno sulle neuroscienze ed è l'idea di, abbiamo delle informazioni molto molto dettagliate sui cervelli prese da risonanze magnetiche, femerai eccetera e per queste è importante cercare di capire se i cervelli di persone che hanno caratteristiche diverse sono diverse. Ad esempio qui si vede chiaramente come un cervello di una persona normale è molto diverso dal cervello di una persona che ha una malattia di Alzheimer. Questa è la sezione, è un esempio di una sezione presa con la risonanza magnetica, però insomma si vede, qui a occhio si vede, non c'è bisogno di grandi strumenti quantitativi, però ci sono delle situazioni in cui invece questo non è così semplice e identificabile a occhio. Ad esempio, questi sono dei dati che vengono da DTI, Diffusion Tensor Imaging, sono nuovi modi di raccogliere informazioni sulle connessioni tra regioni del cervello, non solo sulla singola creatività, ma su connessioni, su come c'è passaggio di fluidi tra zone diverse del cervello. Ecco, ad esempio sfruttando queste informazioni si può cercare di analizzare, di confrontare soggetti ad alta creatività o a bassa creatività. Questo era uno studio in cui questi sono due, ad esempio due soggetti, uno con bassa creatività e uno ad alta creatività. Se noi li guardiamo così non è facile capire che differenze ci sono, ci sono sì certe connessioni in più o in meno, ma non riusciamo a cogliere come interpretare, che differenza c'è tra chi è più creativo rispetto a chi non lo è. E noi ci chiediamo, abbiamo degli strumenti di analisi di dati, di analisi di network che ci permettono di capire quali sono le differenze specifiche? Bene, con dei modelli statistici noi abbiamo costruito, cioè è stato costruito questo grafico in cui abbiamo messo degli archi nelle connessioni in cui c'è una significativa differenza tra i soggetti ad alta creatività e i soggetti a bassa creatività. E si vede chiaramente che i soggetti ad alta creatività hanno in più rispetto a quelli con bassa creatività hanno in più le connessioni nella parte frontale del cervello tra emisfero destro e emisfero sinistro. Più ci sono queste connessioni più la persona sembra essere creativa. Ecco questi sono dei risultati che si ottengono ovviamente analizzando, utilizzando gli strumenti che si poi si imparano durante la nostra magistrale. Altro percorso è quello della statistica per la tecnologia, ad esempio questi sono dati delle scatole nelle delle auto, voi sapete che nelle auto le compagnie di assicurazione adesso mettono delle scatole nere che mostrano esattamente dove ciascuna auto va e questi sono ad esempio i dati che possono essere analizzati, qui vediamo lo zoom su Milano o su un'area costeria tra Pisa e Lucca e così si vede quali sono le strade più percorse ad esempio e si può cercare di ottimizzare l'urbanistica o la costruzione proprio delle strade. Popolazione e società, questa ad esempio è la rete sociale di Facebook, tanto per avere un'idea di che cosa vuol dire analizzare la società. Ma questo è invece un altro esempio in cui abbiamo la curva di mortalità dal 1910 al 2011, vediamo come si sta muovendo la curva negli anni e questo perché? Perché è utile studiare la curva di mortalità. Ecco, vedete c'è una curva blu e una curva nera, quella blu misura la mortalità prematura, quella dei giovani e la mortalità prematura è dovuta a tipicamente motivazioni legate agli stili di vita, incidenti stradali, suicidi, tumori del tratto respiratorio legate al fumo eccetera. Quindi studiare qual è la proporzione di mortalità dovuta a questi, a queste motivazioni rispetto alla mortalità invece normale, quella dovuta principalmente all'età, chiaramente ci fa capire dove si può agire per cercare di rendere socialmente più uniforme una società perché naturalmente le disuguaglianze di salute sono disuguaglianze tra ricchi e poveri e quindi c'è tutto un aspetto sociale che la cosa riguarda interessante. Questo è uno zoom del grafico precedente e si vede come appunto la mortalità prematura si muove rispetto alla mortalità totale negli anni. Che lavoro fanno gli statistici dopo la magistrale? Bene, allora gli statistici abbiamo detto sono persone che contano. Allora nel nostro dipartimento, nel sito del nostro dipartimento abbiamo raccolto alcuni piccoli video che alcuni dei nostri laureati degli ultimi anni ci hanno mandato per dire che cosa stanno facendo. Sono brevi video, potete andare dentro il sito del dipartimento e vederne qualcuno che magari, tanto per avere un'idea, questi sono i giovani laureati. Chiaramente dopo qualche anno il giovane è laureato che trova lavoro, fa carriera, comincia a crescere, eccetera. Noi abbiamo preferito mettere lì le esperienze di chi si è laureato da poco in modo tale da vedere che cosa può fare subito uno, far vedere come di fatto uno che studia statistica poi va a fare lo statistico, uno che studia data science poi va a fare il data science. Tutte le altre informazioni che potrete volere le trovate certamente sul sito del dipartimento di scienze statistiche o c'è anche ovviamente una pagina Facebook oppure potete scriverci, l'indirizzo li trovate tutti dentro il sito del nostro dipartimento. Grazie a tutti e spero che se avete voglia e la curiosità e l'interesse di imparare a tirar fuori informazioni dei dati, scegliate proprio il nostro dipartimento e i nostri corsi di laurea. Grazie. Grazie.